E' bella a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale e oggi siamo qui sul mio server chiamato meglio SuperCraft Siamo qui per, beh, tanto che ci sono nuovissime cose, lobby cambiate, skywords nuove, nuovi minigames Io direi di partire con una bellissima, non skywords, ma con un pvp Questo? Ah si! Allora, se volete altri video della SuperCraft fatemelo sapere Intanto qui abbiamo scritto shop founder, founder è una sala privata per quelli che trovano per una settimana Saranno founder, infatti avranno delle armature tra cui armature founder La rossa, la verde, la nera e la blu E come sappiamo questi sono i colori dei SuperCraft E' utilizzando che cosa ragazzi? No, non è stato molto, non c'è stato molto qui E infatti come ha fatto? Bene ragazzi, è stato facilissimo Ho deciso di mettere per... Ho deciso di mettere una bellissima, ma diciamo un bellissimo Delle casse giganti, magiche, normali Che la normale fa cagare Se trovi qualcosa di buono proprio è leggendario Poi ci sono in offerta per due settimane Il baule, il baule leggendario La cassa leggendaria E la cassa epica Che ora costa 5 stack La cassa epica E anche qui in offerta C'è la nostra... Davvero Ok Allora, come potete vedere Si possono trovare questi Cassa epica Una cassa super magica E dei diamanti I diamanti valgono tantissimo Lingotti d'oro si possono trasformare Il lingotto d'oro di ferro Si può trasformare il lingotto d'oro E questo mattone del sottomondo Se ne collezioni 15 Riesce a fare una cassa epica Ma ora Diamo il suo premio Ok, ragazzi Come avvengono? Allora, ora noi andiamo allo shop, no? E diamo delle robe Che siano buone E che siano un po' inutili Perché se ci rendiamo una cesta così Messa a casa non è molto buona Ok, prendiamo Ok, tipo mettiamo che ne so Cincianti... Tipo... Facciamo così No, questo no Val che volto Ok Preparati, eh Noi gli consegniamo così Lui non può vedere Perché diciamo che è una sorpresa Quindi non può vedere Non spaccare i blocchi Guarda che ti guardo Credo che Emma non farebbe Vai, apri la tua cesta Ragazzi dovete per forza Prendere tutto quello che c'è nella cesta E da sopra vediamo Delle Skywars E lì delle Eggwars usciranno a breve Delle Badwars Allora ragazzi Questo era un piccolo breve Video del mio server Skywars che è durato poco Mi dispiace Ma in tutto questo tempo Io ho creato questo ragazzi Senza nessuno Comunque ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Commentate, condividete Se non vi siete ancora iscriviti Iscrivetevi E anzi Siccome sono buona Voglio fare PvP con voi Con Antonio Tevez e Gabri Peppe Nel prossimo video Se raggiungiamo i 5 like Vi prometto PvP con Antonio Tevez E Gabri Peppe Ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Grazie.